andiamo con luce andiamo aggressivi a sto giro va bene va bene abbiamo il poco anche noi jinx pocca meno di mente oria e subisce di più in early game jinx colpiti a ok andiamo a vedere un po come va sono posseduto da cugino rap si per ricevere lo possiedo io ragazzi è solo mio lasciatelo in pace sono stata brava si brava anagax mi raccomando pubblicizza il video su che c'è domani posso essere la tua yumi certo che impiegai che maestria 6 su yumi 6 maestria 7 spero sono fatti di pelle di gatto no quelle no polside mi dispiace ma i miei gatti stanno bene la fine lancata della partita con racconto quando lo metti qual è la partita di racconto quella di prima di la prima che c'è stata oggi vitto non lo so hanno quello che fatto con te non lo so ma uscirà prima o poi sono fatte super bene le tue live grazie salta tempo mi fa piacere anche a giocare in ferro si possono fare delle live fatte bene cazzo ragazzi avete visto o porca grazie salta tempo dei complimenti sono molto contento che ti piaccia e che comunque sia apprezzo il lavoro che facciamo che c'è dietro grazie davvero ok e spero saranno fatti bene anche i video su youtube ragazzi che siano canzoni che siano mi piacciono i gatti certo forse ne ho due una si chiama yumi oh no basta con sta yumi e non l'ho scelto io il nome del gatto è l'ha scelto mia mamma mia mamma ha detto ma come si chiama il gatto che è nel poster yumi ok chiamiamo così il nostro gatto e io ma c'è un di scritto al torneo lo elimino c'è un nome iscritto al torneo lo elimino controlla che non sia diamond in tft o in flex dai flex comunque non vale comunque e controlla solo se tft vabbè e non c'è jinx ma che cazzo ma il game è startato subito quindi non dovevano esserci afka vabbè muore volevo prendere la kill non sono stato abbastanza veloce a fare flash attacco base ma ok volevo benissimo fare il 2 e far la e però cioè volevo subito la kill di quella merda ragazzi va bene ok jinx è arrivata buongiorno e non so ragazzi oggi oggi va così oggi ce la danno gratis vabbè solo questo il game di prima è questo quello prima ancora non esiste la via di mezzo e per una volta che esiste qualcuno sorrende 600 iscritti su youtube attenzione molto bene ragazzi 600 iscritti a 666 facciamo una bellissima festa con delle cose bellissime tutte rosse ragazzi 666 però voglio eh mi raccomando e poi a 777 quindi ogni 111 iscritti facciamo delle feste a 777 cosa si può fare non ne hai 3 di gatti sei sicuro ho anche il gatto della malora tra l'altro gatto della malora ho visto che ti piace fare i miei mini vuoi diventare tu il vuoi avere tu il ruolo nella mia community di oh porca io mentre parlo sono qua che faccio le spelle a caso vabbè e vuoi avere tu il ruolo nella mia community come mematore professionista ci sta eh vabbè dai ok ora basta concentriamoci un po' ragazzi che se no qua scusate se non sto leggendo tutti i messaggi questa è l'ultima no non lo so non penso dipende quanto tura il game grazie del follow ma il video di domani si pubblicizza da solo ok non riesco a leggervi tutti ragazzi lo sapete io ci provo adesso cerchiamo di fare una bella partita che prima abbiamo fatto dei cessi o usiamo l'ial se no questa ci muore va bene va bene ovviamente io con Lucian ragazzi che cosa andrò a fare di build vediamo un po' se lo sapete allora contro quel team allora a me piace un fottio l'arco scudo ok però so che su Lucian è molto forte anche quello che fa il kraken però boh è che c'è l'arco scudo e io c'ho un amore per il life steal che è una cosa che supera ogni limite però ci penserò al massimo farò subito la BT vediamo c'è un po' di wave ma va bene possiamo farlo il gank dai non al flash credo ma invece ce l'ha vabbè se ci fanno torno qua dai una mano non uno dai dai ce lo facciamo e deve avere paura ok va bene va bene va bene è un inizio un po' in sordina ma ci sta finalmente una partita che non inizia con io che faccio 3-0 ok vai Mumu sì non mi aspettavo che c'era che Nocturne fosse in lane è proprio strana questa cosa Kraken Essence River Navori l'Essence River no perché devo fare l'Essence? scusate chi vi ha detto di fare l'Essence? ragazzi Kraken Infinity no no Navori nemmeno e dove lo mettete il il Sustain se fate questa build scusate era per dare al team avversario la possibilità di vincere sì esatto questo qua è biego vero? sì mio dio mi stavo spaventando va bene non lo prendiamo quindi pushiamo ho preso una kill ok va bene Sona 2-0 ok brava Sona let's go che sorpresa hai trovato che cazzo ne so come se avessi avuto il tempo di aprire questo uovo sono quasi al 5 bene in questo momento siamo più forti di loro io pusho così Jinx perde più farm possibile sotto torre ok max di Q ovviamente se questa Jinx passa da qua l'attacco non passa di qua c'è qua le cose ok vorto su Seraphine Jinx ha flashato Nabba va bene ok e adesso cerchiamo di fare un po' di danno alle plate che ovviamente soldi gratis non fanno schifo Jinx non ha flash teniamo conto di questo mid sta morendo ok Amumu vuole fare il drago i nemici non hanno vision perché abbiamo la pink da 6 secondi ho la E ok aspettiamo questi 6 secondi e facciamo ok ora posso ingaggiare purtroppo non ero abbastanza in range però vabbè un po' di danno gliel'abbiamo messo un po' di paura gliel'abbiamo fatta andiamo a togliere la ward anzi no facciamo questo cugino domani a che ora devo essere su discord boh vediamo domani mi scrivi su discord lasciami un messaggino adesso così poi in live lo vedo ok su Ezreal che build fai sicuramente lo sai ma lo stanno buildando con l'essence il mitico da assassin sì sono stato avanti molto del meta allora perché lo facevo così da appena hanno cambiato gli oggetti però vabbè siamo abituati a questo genere di cose comunque mi piace molto la build di con col divine normale ok divine muramana e via però so bene la dractar è la dractar non c'era bisogno che lo scoprisse il meta basta vedere le mie partite con jinx mid full lethality dractar primo item questi si spaventano che abbiamo la pink di fianco e non possono vederci ma ci sta è normale quindi vogliamo andare di questo vogliamo andare di danni andiamo di danni andiamo di danni va bene va bene andiamo di danni che danni siano ragazzo brama sangue terzo artempo ciao pucalian hai visto ti è arrivata la sub spero tu sia contento torneo se non sono classificato va bene comunque dipende dal tuo elo della scorsa season se la scorsa season pure è in rank allora va bene ok a meno che non so nel tuo smarf e sul tuo main ok se vediamo che c'è qualcuno che smarfa ciao grazie arrivederci tp ezeral ti dico che ultimamente si fa una build semi assassin si vabbè è quello che ha scritto ciao diorengar benvenuto ok questa qua è esplode va bene madonna stasona on fire brava ragazzo voleva rubarmi pure questa con l'ignite ma cos'è che deve fare la z challenge tutti esse mi ricorda mi ricorda me agli albori grande zona comunque non ho dato il degno saluto ad edward e a underpower che mi hanno redato quindi ragazzi buonasera a tutti quanti non so se ci sono ancora ma vabbè è stato piacevolissimo ricevervi qui voi se venite da qualcuna delle loro ride in caso ragazzi fateglielo sapere che sono molto contento che abbiano scelto me se no sta facendo la leech sì almeno sembra che voglia andare di quello non so se ci sfanno altri oggetti con questo da support non mi sembra quindi direi proprio di no direi proprio che ci gankano no gankano da un'altra parte vediamo un po' dove top no si top vabbè 3-1 top lane bene direi onesto abbiamo il nostro kraken torniamo in lane vittoriosi ora esplodo perché questa qua è un pochino indietro con la build questa bottele non fire ragazzi 4-1 e 3-0 e voi che non mi credevate sono partito 0-1 così capisco chi è la mia anima gemella se ride in che senso Anagax leggiamo un po' di messaggi in chat buonanotte buonanotte anima buonasera signor gran maestro del chill kraken allora l'ultima partita che ho fatto con te usando una canna ok va bene vito si uscirà sicuramente se è stata una bella partita dopo che hai fatto vedere il video dopo lo ripubblicizziamo col trailer sì grazie Anagax ok va bene vai ragazzi buonasera termo e ora sarebbe una bella cosa fare questa torre ah brutta ulti di sona brutta ulti di seraphine vabbè le ho invertite ma tanto sono la stessa cosa poverino magari si sente solo peccato va bene comunque è stato molto bello questo scambio di ulti smissate ragazzi da parte di questi due champion apparentemente uguali bravi ragazze bravi bravi proprio bravi porca mi ci muovi lui non ha la ulti sa questo rimaniamo solo io e te ok eh sì io ho zerato tutti gli altri in modo da rimanere io e te soli e vaffanculo ti uccido da solo non sei nessuno Nocturne da solo non sei nessuno cazzo va bene ti imparate a giocare finalmente bravi ragazzi il gatto è tutto porca va bene va bene let's back compriamo infinity ovviamente perché vogliamo i danni quelli veri non quelli finti dell'essence river che ci fa fare un danno solo dopo un'abilità eh non fa per me ragazzi non fa per me addio loro cos'hanno sono 3d ok ranger top è carino piace solo me no è molto bello ranger top oh c'è un po' di gente mid lane sarà una bella sfida però si fanno la mid porca ho fatto a flashare così ok faccio flashare la gente evidentemente flasha adesso io glielo dico a comando e loro flashano ecco visto flashato appena l'ho guardato salvato dal drago e vabbè no dovrà male ok questa la uccidiamo va bene dove sarà andata sarà messa a regolare i non li stice spugli sicuro eh eh in quale dov'è ci ho provato è molto veloce evidentemente ci ho messo trap però mi piaceva tipo e lei era lì oh mio dio e se ne fa immaginatevi la sua ansia allora non so che strada abbia preso questa ragazza e vabbè e pensavo fosse lì a recollare evidentemente ho sbagliato qualcosa vabbè e fa niente come ho fatto a non vederla scusami cioè lei stava andando di qua quando io entravo nel cespuglio e lei come ho fatto a non vederla è impossibile quella non era jinx era viego ma viego non può prendersene il mio compagno vabbè sentite qualcosa è successo di strano ok ti ho salvato la vita mumu quindi ti tasso la giungla così imparate voi già la sei vista dalla minimappa oh porca come no io non l'ho vista raga dai volevo fargli la sorpresina madonna vabbè peccato povero povero cugino lasciatemi credere le cose ma come è possibile che mi abbiano regalato un ambollamento senza essere in live salvo tu basta che lasci il follow ma ragazzi non potete io dico le cose subito dopo quello che dico viene distrutto da quello che fate basta che lasci il follow e lascia il follow ma scusa neanche avevi il follow naffanculo allora non lo so senti va bene basta ecco e allora lasciate sto cazzo di follow ragazzi siete nuovi e non avete ancora lasciato il follow e allora lasciate che vi costa eh avete il follow a tutti quanti mi manca solo a cugino rap porca puttana grazie milo benvenuto infatti bravo che facciamo lasciamo il follow a terenas eh sì allora lasciamolo anche a cugino rap molto bene dai arrivo oh porca arrivo sparato sparata con una ulti ne faccio due tre vabbè vabbè dai tempo di esplodere è la pentakill ragazzi è la pentakill no è troppo è stato troppo tempo very nice bene ecco gli lasciamo il follow no basta è tempo di lasciare il follow ecco visto questa è la build migliore altro che essence river con l'infinity faccio un sacco di danni non c'è bisogno di fare più danno dopo la spell come stai tgis tutto bene ti è arrivato il regalo non lo so forse non te l'ho mandato te lo mando dopo voglio replay con l'audio qual è il replay con l'audio ah no non possiamo mettere l'audio nel replay ma è partito il replay si è partito il replay vuoi replay con l'audio va bene vai cugino avete il pollo apg esport spero di sì allora anche a cugino rap eh sì allora lasciamo anche a cugino rap molto bene dai arrivo oh porca arrivo sparato sparata con una ulti ne faccio due tre va bene dai tempo di esplodere è la pentakill ragazzi è la pentakill no è troppo fa troppo tempo oh bene bene ragazzi nel frattempo sta succedendo un casino tutto il mio team è morto che cazzo succede qua io faccio vedere il replay e tutto il mio team muore vabbè io non so più che cosa dire ci penso io ragazzi ma come tripla di nuovo pentakill e vai avete visto che è regia ragazzi addirittura c'è il replay basta eh no non mi ha dato la quadra e vabbè e vabbè niente ragazzi sembra il lag sì succede di tutto sono io che mi casto faccio da regia tutto quanto da solo ragazzi ah mamma mia eh non c'è più niente ecco avete il follow ipg esport ecco avete un altro motivo in più io faccio tutto quello che fanno loro ma insieme io mi faccio da da caster mentre faccio da regia e mentre gioco oh porca ma cosa abbiamo qua macchina da guerra eh sì gli altri streamer che fanno dissing ecco cosa fanno va bene va bene ok tripla no quasi ok che lo sai sul main è lo stesso di fieric sai che adesso fieric sta giocando sul main per arrivare a fare non so il diamond ecco dove si ferma lui quello è il mio elo e dove arriva lui farò una scalata e ci arriverò anch'io aspetto che lui la finisca e arriverò dove arriva lui così potrò dire che sono lo stesso elo di fieric gli stessi lp perché aspetterò che lui blocchiare un certo numero di lp e io mi bloccherò gli stessi ha e ormai rendiamo questo meme una vita proprio facciamo l'erar ragazzi che dite abbiamo gli ultimi 30 secondi ce la facciamo pochissimi secondi rimangono secondo me ce la faccio è abbastanza danno ce la facciamo dai si ah in tempo giusto in tempo ragazzi e adesso guardate chi arriva era il più grande molto bene ammazziamo tutti non diventiamo matti oddio cos'è fatto questa zona tutti in testa brava zona vp nice ulti posso scriverle un complimento va bene brava zona up nice ulti ecco fatto il complimento ultima sim per avere gli lp di fieric esatto sarà così quante sub siamo QG andiamo a vedere quanti sub siamo ragazzi siete attualmente 184 abbonati nice bravi ragazzi prima della live di stasera eravamo 140 però effettivamente la sensibilità potrebbe essere utile per il cd però dopo che si comprano questi oggetti oh ma ho 4000 gold vabbè devo andare in base andiamo in base game's boring next ma io ti faccio un complimento e dici ste cose it's like versus intro bots zona perché mi fai sentire più una merda vabbè va bene zona senti eh cioè disrespect più totale ma cosa sto comprando a questo cattiva davvero ma no zona full AP sannoia è troppo scarsi ma se dice vaffanculo andiamo alla prossima dai ah ah sì ammazzo eh che aggressiva questa ragazza gli iron non sfottano gli altri iron è bellissimo tutto ciò ragazzi è bellissimo è un elo magico io adoro io adoro tantissimo vedete pushiamo botria in questione frega di pushare mid tanto cioè ma allora allora pusho top lane zona è proprio una rara ragazza povero rap che cattiveria che hai subito da zona ti tiriamo in morale per noi sei più forti di reckless vai ci pensa la golico tirami su di morale ragazzi ok zona è morta è morta dagli intro bots non glielo diciamo però rimane tra noi questo segreto è morta dagli intro bots no la golico non sono davvero triste non ti preoccupare non mi sta venendo da piangere non c'è nessuno che mi sta insultando in chat sarebbe un po' di content free content un po' di drama free però va bene vai spreziamo ok con il navori vai in urf no navori in urf non serve proprio perché non ti serve il navori cioè hai già cd che te ne prego rap sei un pollo mi hanno detto che sono un pollo nuova live mi insultano dicendo che sono un pollo nuovo titolo oh porca 601 iscritti su youtube cazzo tra poco abbiamo più viewer che iscritti però va bene ci accontentiamo ragazzi ciao dopo siete tutti difedenti a iscrivervi ai canali youtube non so perché eppure facciamo tanti bei contenuti faremo eh abbiamo già fatto e faremo ti ammazzo con la ulti basta mi ero rotto di vederti camminare verso di me e sembravi minaccioso facciamolo vai il drago vai facciamo ciao onyx perché non mi fa usare il vocale si vede che qualcuno l'ha usato da poco poi dice avete messo in pausa i vocali no vero moderatori police per far darti battito se bevi che ti cammino incontro sembrava minaccioso non so cosa voleva farmi voleva rovinarmi dopo tutto il re in rovina vai ah bravo multa per una kill già fatta no mi ha rubato la penta va bene ciao ragazzi siamo arrivati in team insieme come state andiamo we don't need baron brava vei infatti non ne abbiamo bisogno i veri pro vincono senza le spell no anche senza baron lo vuoi ok dobbiamo ucciderla quella no va bene così per rap li devo abbandonare ma ho finito col disegno sceno vuoi condividercelo con noi così lo vediamo in live adesso è una mia fan art quindi gg bella ragazzi brava sona molto aggressiva ma mi piace voto che voto le diamo a stasona un voto per stasona in chat ragazzi hey it's me haha che voto le diamo a stasona parte 9.3 mmm s- s- vediamo se ha preso s- secondo me potrebbe essere s- cazzo ragazzi s- ha preso ggup t-sona so good brava sona lucian reported ma perché jinx ma e va bene aha vp smart eh